Paradiso dalle tenebre alla luce è uno spettacolo che debuttò due anni fa al dramma popolare di San Vignato e ha come tematica la terza cantica della Divina Commedia di Dante Alighieri, quella forse più teologica, più filosofica, più impalpabile che è appunto il Paradiso. Ho cercato con questo spettacolo di raccontare il Paradiso da tanti punti di vista, quello antropologico, quello filosofico, psicologico, fino ad arrivare a riflessioni che riguardano tutto ciò che è invisibile intorno a noi, l'immateriale e quindi la spiritualità e cosa c'è oltre la nostra vita se esiste qualcosa dopo di noi. Debutta in grande stile la rassegna tra Sacro e Sacromonte, diretta da Andrea Chiodi, è incentrata su un taglio artistico denso di analisi e spiritualità perfettamente integrati nel contesto monumentale che fa del festival un gioiello unico a livello nazionale. È straordinario questo trentatresimo canto del Paradiso perché c'è questo poeta, Dante lo ascolterete, questo poeta che continuamente sembra scusarsi, scusarsi con ognuno di noi, dice scusate non ce la faccio, veramente ce l'ho messa tutta a scrivere ma non riesco a descrivervi perfettamente quello che ho vissuto in questa esperienza e a un certo punto si paragona a un neonato che ancora beve il latte dalla mamma, dice mi sento come un fante che bagna ancora la lingua alla mammella, sentite che umiltà, il più grande di tutti.